Il presidente francese Emmanuel Macron ha ammesso la responsabilità della Francia nel genocidio del 1994 in Ruanda dall'aver appoggiato il regime di allora all'aver ignorato gli allarmi per impedire i massacri. Nel corso della sua visita al Genocide Memorial di Kigali, dove sono sepolti i resti di oltre 250.000 vittime, il presidente francese ha dichiarato Tenendomi con umiltà e rispetto al vostro fianco, oggi sono venuto a riconoscere le nostre responsabilità. Questo è anche proseguire l'opera di conoscenza e di verità che solo il lavoro rigoroso di ricerca e degli storici ci permette e noi continueremo a farlo. Macron, che è anche il primo leader francese dal 2010 a visitare il paese dell'Est Africa, non ha pronunciato la parola scusa, attesa da alcune personalità ruandesi, ma ha riconosciuto una responsabilità della Francia, che però non si è macchiata di complicità nel massacro avvenuto tra aprile e luglio del 1994, quando furono uccise più di 800.000 persone, in maggioranza Tutsi. Il presidente del Ruanda, Paul Kagame. Il presidente ha appena fatto un'importante dichiarazione al Kigali Genocide Memorial, è stato un discorso potente con un significato importante per quello che sta accadendo ora e risuonerà ben oltre al Ruanda. Le sue parole sono state qualcosa con più valore delle scuse.